Sarebbe il Clostridium per Fingens, il batterio presente nei campioni d'acqua prelevati a San Valentino in Abruzzo Citeriore che hanno portato il primo cittadino del centro della Val Pescara Antonio D'Angelo a firmare l'ordinanza urgente in cui si stabilisce la non potabilità dell'acqua per qualsiasi uso alimentare anche previa bollitura. Diversi tra i cittadini casi di dissenteria verificatisi nelle ultime 48 ore, la situazione però in miglioramento. Questa mattina riunione con la protezione civile per decidere le modalità per l'approvvigionamento d'acqua. Intanto i consiglieri comunali di opposizione non ci stanno spiegando che il sindaco e l'amministrazione comunale devono assumersi le loro responsabilità riguardo a prevenzione, comunicazione e gestione dell'emergenza. Intanto il rifornimento idrico è iniziato da ieri sera perché ieri sera già alle sette e mezza avevamo a disposizione cinque bancali di acqua in bottiglia che abbiamo iniziato a distribuire alla popolazione e sta continuando ad essere distribuita in queste ore. È arrivata un'autobotte, già una prima autobotte per rifornire gli allevamenti e nella giornata di oggi tra mezzogiorno e le tre arriveranno altri 9.000 litri d'acqua sempre in autobotti. Oggi è ipotizzabile avere una data di quando si potrà tornare alla normalità? Proprio stamattina abbiamo fatto partire una lettera all'azienda consortile acquedottistica che ci sta dando una grossa mano perché nel nostro territorio è presente, pur avendo noi l'acquedotto dell'orfento che gestiamo in proprio, ma è presente un serbatoio dell'ACA e adesso abbiamo chiesto a loro l'autorizzazione ad allacciarci a quel serbatoio e nel momento in cui questo serbatoio dovesse arrivare saremmo in condizione di far ripartire il normale uso delle utenze domestiche nel territorio comunale. L'opposizione parla di comunicazione arrivata in ritardo di gestione dell'emergenza non all'altezza. Voi cosa rispondete? Noi rispondiamo con quello che l'ho appena detto, che alle 13 abbiamo avuto la telefonata della ASL, i dati sono arrivati alle 15 di ieri, alle 7 e mezza già abbiamo iniziato la prima distribuzione e oggi stiamo completando il discorso. L'opposizione io capisco che debba fare il suo mestiere, però io dico sempre che quando ci sono delle emergenze forse la comunità si deve unire.